Metti i ricordi in un posto che non ricordi, dove sicuro ci ritrovi anche il sol, croatino, al giorno d'oggi, per collegarci sono inutili ponte, tornerò a parlarti col walkie talkie, ma da un metro. Dopo il progetto dove pensi basta con tutto, invece poi anche come è successo già in passato, perché magari ho scritto altre cose, prima di questo pensavo sempre alla fine, cioè basta con questo smitto, ho dato tutto, invece poi succede sempre qualcos'altro. Sì, lo so, avrei dovuto dirtelo, che sono stato e toccato male. Sì, sei sefili nei metro, minimo. Però incontri queste cose qua. Lo so, però è un po' un accroccio futurista, capito? Quest'anno, il regalo per Natale, è che sono stato troppo solo, troppo triste, troppo buono, ma solo con me. Perché noi che abitiamo anche, diciamo, vicino, ci rendiamo conto, entrando qui dentro, che ci siamo persi delle cose pazzesche, se avete la possibilità veniteci al cento per cento. Non sapevo come fare, non era niente che posso dire, non era niente che puoi vedere, anche se c'è.